Su fratelli, su compagnie, su venite in fitta schiera, su una libera bandiera, splende il sol dell'avenì. Nelle pene e nell'insulto ci svingemmo il muto patto, la gran casa del riscatto, nion di noi vuoi. Era ormai sera ed entrando in città, fin dalle prime case, Ida trovò i lampioni accesi. Aveva accelerato il passo, l'ombrellino premuto sul fianco, l'altra mano impegnata a trattenere un lembo della lunga gonna. Se la strada era deserta, accennava una corsetta. La paglia ondeggiava sulla sua testa e il suo abito lilla, da cui sbucavano gli stivaletti, era tutto pieghe e fruscii. Sembrava che essa si volesse graziosamente sottrarre un temporale di cui era la sola a intravedere la minaccia in quel cielo sereno dove brillavano le stelle e c'era un quarto di luna. Rientrare prima di Cesare, questo voleva, e non per il timore di non riuscire a persuaderlo con una bugia, ma per non doversi accingere a una discussione. Pensava, appena a casa, di riempire l'acqua, d'acqua la conca e tuffarvisi tutta nuda. Sbucando su piazza Sangallo, urtò un giovane che proveniva dall'interno del parterre. Costui si scusò togliendosi la paglietta. «Pardon!» disse madame. Ella era già a qualche metro distante e non poteva fare a meno di squittire divertita. Un omnibus a cavalli sostava sotto l'arco napoleonico. «Un momento!» ella gridò. Quando fu sicura di aver richiamato l'attenzione del conducente, si fermò come spossata sorreggendosi all'ombrellino. Una, due, tre mani viridi si spossero per aiutarla a salire dietro di lei. Anche il giovane di poco prima aveva raggiunto la piattaforma. E mentre l'omnibus percorreva il viale di circonvallazione, le si era seduto di fronte e non le toglieva gli occhi di dosso. Come gli altri uomini di presente e del resto. Come le due donne in cappelli, ciascuna con in braccio un bambino, e quella ragazza è il maturo operaio che le stava accanto. Sguardi di ammirazione, ella non ne dubitava. La sua grazia e la sua eleganza, il pudico cenno della testa con cui aveva ringraziato Salendo, l'atteggiamento pensoso che adesso si adattava, erano fatti apposta per restare impressi e per colpire. Certo, nessuno di costoro poteva immaginare che soltanto mezz'ora prima, la giovane signora, a cui sembrava facile attribuire un censo, si abbandonava alle carezze di un muratore, tra i sassi e gli sterpeti di terzolina. Né che ora, sotto la sua fronte in apparenza abitata dai più leggiadri pensieri, il più leggiadro fosse questo. Mi sento tutta appiccicaticcia. Così, dicendosi, le ridevano gli occhi e rapidamente li abbassava incontrando lo sguardo del giovane dalla paglietta. Non di meno, vedeva che sotto quella paglietta e quello sguardo c'erano due baffi neri, stupendamente arrecciati, un solino impeccabile, una farfalla azzurra. Chissà chi è, si chiedeva. Un francese per davvero? Ma la sua testolina, nemmeno troppo ambiziosa dopo tutto, come non ospitava più pensieri in una volta, non era capace di distrarsi da un desiderio per un altro. Ora la sua mente tornava a Cesare e si diceva «Se arriva prima di me, uffa, sai quante storie!» Magari, e sì, avrebbe risposto a tutte le sue domande. I pretesti le sarebbero venuti lì per lì, non c'era da preoccuparsene, ma a patto che mi faccio la doccia. Già pregustava la gioia di sentirsi l'acqua scorrere sulla schiena. Lei, accovacciata dentro la conca, è Cesare che le versava l'acqua sulle spalle e sul seno. L'omnibus si arrestò in piazza Beccaria. Poco più in là della gente faceva ricerchio attorno al forzatore che, dilattando il torace, spezzava le catene. Il lume a carburo posato per terra ingigantiva all'ombra dell'atleta dal petto nudo e incatenato. Ne provò una dolce emozione. Si alzò per vedere meglio, ma subito tornò a sedersi, fingendo di avere creduto che quella fosse la sua fermata. Lei, muovendosi, anche il giovane dalla cravatta azzurra, si era mosso e ora, sorpreso, rivelato nelle sue intenzioni, si decise a discendere. Allorché l'omnibus gli sfilò davanti, si tolse nuovamente il cappello e accennò un inchino. Ida gli restituì il saluto inclinando la testa e in col suo pensava «Per i timidi, angelo mio, non c'è paradiso!» Qualche minuto dopo entrava in via dell'ulivo, felice della sua giornata e col pensiero di già tuffata dentro la tinozza. A metà scale l'attendeva Ersilia. «Venga un momento da me, Ida, tanto suo marito non è ancora rientrato!» «Oh, Ersilia, come mai si era dimenticata che esistesse?» Gli allori raccolti sull'omnibus l'avevano stordita fino a questo punto. Comunque, ora si trattava di affrontarla, di ammirare i suoi papaveri neri dalla corolla arancione e tutto era sistemato. «Mi lascia andare, sono stanca morta, sapesse da dove vengo. Non era andata da sua sorella? Già, ma al ritorno ho fatto una passeggiata sui lungarni fino all'Indiano. Ho preso tanto sole da stordire. Mi lascia andare», ripetè. «E poi?» «Un momento solo, via, mi dica!» Ersilia era ignara e gentile. A secondarla era ciò che bisognava fare. Ida, piuttosto che in difetto, si sentiva maggiore e più esperta di lei. Dava a Metello la gioia che lei non aveva saputo dargli. Oltretutto lo accarezzava con delle mani ben curate. Questi, entrando nel salotto cucina, erano i suoi pensieri. Ma disse, «Non c'è il bambino?» «No, è in San Frediano?» «Se n'è scordata?» Ersilia la spingeva per un braccio e quasi la costrinse a sedersi, affettuosamente, sempre. Sul tavolo c'era acceso il lume a petrolio e da una parte stavano le carte colorate e i fiori lavorati agli stoppini. «Vedo che non ha progredito granché col lavoro.» Si tolse la paglia e la depose sul tavolo. «Già, ho lavorato poco», ammise Ersilia. «Le sedè di fronte, ginocchia contro ginocchia, come per invitarla a reggere la matassa», pensò Ida, e scioccamente si affezionò a quest'idea mentre si riordinava i capelli sulle tempe e alla crocchia. «Ha da fare dei gomitoli?» le chiese. Teneva una forcina tra i denti, le mani dietro la nuca, e siccome Ersilia non le rispondeva, la guardò in viso. Allora cominciò a sospettare. Era pallida come non l'aveva mai vista. Aveva lineamenti tirati, gli occhi grandi, la pelle lustra di un sudore freddo, si sarebbe detto, e sulle labbra un sorriso, che non era il sorriso né di una persona affaticata né tanto meno di un'amica. Ida fece appena in tempo a infilarsi la forcina dentro i capelli, ma non la poté fermare, poiché Ersilia fermò lei con due parole. «Brutta puttana!» «E subito dopo?» «Dove l'hai portato?» Neanche le permise di abbozzare una difesa. «Portato?» «Chi?» «Cosa?» tentò di dire. Fulminiamente, restando seduta faccia a faccia, Ersilia le aveva vibrato uno schiaffo. Sotto il colpo Ida scartò di lato, ma un secondo schiaffo sull'altra guancia la rimise in equilibrio e due, quattro, sei, tante doppiette la raggiunsero dall'orecchio alla bocca prima che potesse piegarsi in avanti e nascondere la faccia tra le mani. Ersilia si era alzata, la rovesciò sulle spalle tirandola per i capelli e con la mano libera continuava a colpire. In silenzio, calma, badando dove picchiava e impegnandovi tutte le sue energie di donna sana, forte, sanfredianina. Ida, mezza svenuta ormai, le braccia abbandonate, il mento proteso, si offriva suo malgrado alla tortura. Un groppo le chiuse la gola e le toglieva il respiro. Implacabile, sempre trattenendola per i capelli, Ersilia la batteva sul viso finché vide che non più saliva, ma sangue usciva dalla bocca della bella Idina. Lasciò la presa e Ida ricadde con la testa in avanti, ora singhiozzandosi disperatamente. Ersilia le porse un tovagliolo bagnato. Tieni, disse, pulisci la bocca e vattine, su, aria. Ida uvidì tra le lacrime, il volto in fiamme, come una bambina castigata. Il sangue le usciva dalle gingive, fece presto a stagnare, ma il labbro superiore si gonfiava vista d'occhio e se Ersilia lo vedeva lei lo sentiva. Si toccò e le parve smisuratamente in fiato come le guance, le orecchie e il naso su cui via via posava la mano. Sconvolta qual era, si immaginò che Ersilia l'avesse sfregiata. Ebbe uno scatto, gridò, sì, te l'ho portato via, sì, ne faccio quello che voglio. Si alzò, rabbiosamente decisa a passare all'offensiva. Ma Ersilia le stava davanti e subito l'umiliò con un'altra doppietta, come due schioppettate, una ginocchiata sul ventre la raggiunse come l'eco di coteste schioppettate. Ida si ritrovò ai suoi piedi, materialmente ora, i capelli disciolti e il bel vestito lilla macchiato di cinabrese. Il dolore al ventre, al viso e più l'istinto della vittima la sopraffecero. Si abbandonò, supina sull'impiantito e digregnava i denti e si dibatteva, schiumava sangue e bava. Quando rinvenne, erano passati pochi minuti, si ritrovò seduta sulla medesima sedia e accanto a lei da un lato c'era Ersilia e dall'altro Cesare che le faceva odorare l'acqua antisterica e la chiamava coi più dolci nomi pallina, zucchero, idinina, ma più che il marito ella udì Ersilia. Un colpo di sole, Ersilia diceva, è andata sull'Ungarni a fare una passeggiata, si è tolta la paglia, vede come tutta presa al viso, ha bussato alla mia porta per chiedermi aiuto, l'ho messa a sedere mentre tornavo con questo panno bagnato me la son trovata ai piedi, ha battuto il labbro nulla di male, c'ha tutti i denti sani, speriamo impari a non fidarsi troppo del sole, lentamente tornando alla ragione, Ida si provava a sorridere e intanto sentiva. Sei sempre la solita bambina, diceva Cesare e la baciò sulla fronte, poi si rivolse a Ersilia. Sembrava che se lo sentisse, aveva voluto rimandare di una settimana la partenza per il mare. invece credo ci abbia ripensato, vero Idina? le chiese Ersilia e per quanto la sua voce risuonasse dolce e comprensiva il suo sguardo sfavillava. Forse, Ida disse, chissà, e nuovamente in sé, anche se con i lineamenti un po' alterati, dipende da come passerò la nottata. Mentre Cesare le umettava al labbro con il fazzoletto, Ersilia le cambiava la pezza bagnata sulla fronte, premendola più del necessario, tanto che l'acqua e l'aceto di cui la pezza erano imbevuti, le colò sugli occhi. Io credo che cambiare aria le giovi. Lei, Ersilia, non è di questo parere, disse Cesare. Ida si sottrassa le loro cure e con gli occhi che le bruciavano ora come il labbro e il viso prese il cappello di sopra al tavolo e si avviò la porta. Mi so custodire da me, gridò, e non volendo aggiunse La ringrazio di tutto, Ersilia, buonasera. La compatisca è una bambina, Cesare disse e la seguì. Rimasta sola, Ersilia riordinò il tavolo, le sedie e tornò alla finestra. Di tanto in tanto, mentre spiava i due angoli della strada, si passava un dito sotto gli occhi e tirava su col naso. Fuori, la fiaschetteria, avevano accennato il concertino, c'era la chitarra, c'erano i mandolini e la solita voce roca che li sovastava. Con l'ago tu cusci il tuo corredo. Ora un sentimento per lei stessa confusa, ma l'ancinante e suavissimo insieme la possedeva. Desiderava che Metello tornasse presto, poterlo vedere, accarezzarlo con lo sguardo, come egli fosse partito da tanto tempo ed ella temesse di non riconoscerlo. Udire la sua voce, la sua presenza avrebbe fatto risorgere il sole anzitempo. L'attesa la sfibrava e un senso di timore, già una paura inconsulta per un torto fatto piuttosto che ricevuto, una profonda amarezza, infine, si mischiava ogni momento di più alla tenerezza che li invadeva. A una finestra di rimpetto qualche casa più avanti si affacciò a una donna. Celeste, la Celeste, era la moglie di un fontaniere, avevano quattro figli, tutti piccoli, a scala. Lei e il marito erano all'ordine del giorno nella strada per i loro litigi. Lui beveva e la picchiava. Sestilio, Costè gridò, la cena è pronta. Non c'è bisogno di urlare, egli le rispose sgarbatamente. Sedeva sulla soglia della rimessa, giocava a carte col bacalaro. Mettila in caldo, debbo finire questa partita. Sono tutte stilettate al mio core, diceva lo stornello. Ersilia rientrò in cucina, riattizzò il fuoco, si era asciugata al viso, passata il pettine sui capelli, quando Mettello apparve e trovo pronta la frittata di patate, la tavola apparecchiata, il mezzo litro di vino. Ersilia lo accolse disinvolta e serena all'apparenza e gli disse «È mezzanotte, ti sei fatto aspettare?» Egli posò la giacca che teneva sulle spalle e senza togliersi il berretto si sede sul tavolo. Dapprima nemmeno le rispose, incominciò a mangiare, il suo sguardo era risentito, fissava un punto che soltanto lui vedeva. «Cos'è successo?» Ella ripetè. Finalmente egli le rispose. «Può darsi che il peggio sia ancora da venire. Qui le spiegò che Olindo aveva spalleggiato i crumiri che l'indomani sarebbero tornati sui cantieri. Proprio ora che gli imprenditori finiranno per trattare, siccome Roma gli ha risposto picche, una buona percentuale Olindo in testa a quanto pare hanno deciso di riprendere il lavoro. Gli imprenditori volevano che il prefetto pigliasse in mano la situazione, che venisse chiusa la camera del lavoro e fossero arrestati i caporioni, cioè noi, del buono, Giannotto, me, ci hanno messo anche me tra i caporioni, tutti rappresentanti di cantiere e purtroppo in parte ci sono riusciti. Oggi Olindo è venuto a cercarti. Lo so, me l'hanno detto. Ella fu sul punto di chiedergli «E tu, dove eri?» Ma lo vedeva così preso da questa sua preoccupazione e così chiuso in sé, avvilito che non ne fu capace. Ora, anche in lei la curiosità era un'altra e vi si mischiava al timore. Gli chiese «Cosa vuol dire in parte ci sono riusciti?» Egli la guardò. Non c'erano mai stati dei segreti tra loro. Nersiglia era una moglie come ce n'erano tante anche tra le donne e dei suoi compagni di lavoro alle quali per uno nulla scappa al cuore e più uno è disperato più dovrebbe tenersi tutto per sé fino a scoppiare. Come sempre confidarsi a Ersilia oltre che soggiacere a un desiderio istintivo qualcosa di più di un dovere sentimentale gli permetteva di ricapitolare la realtà dei fatti e la situazione medesima in cui si era venuto a trovare. Stami a sentire. E anche se questa volta ci fu un segreto egli le raccontò tutto forché il motivo per cui non si trovava la camera del lavoro quel pomeriggio ella non gli fece altre domande né lui tacendone la sua avventura con Lidina si sentì in colpa in peccato qualcosa le sovrastava che per il momento gli imponeva di porre in disparte i loro sentimenti. Alla svelta giunse debbo essere fuori prima di giorno e vorrei dormire un paio d'ore quel pomeriggio alle sette mentre lui giaceva con Ida tra le siepi di Terzollina gli scioperanti si erano raccolti sotto la finestra della camera del lavoro in silenzio e addossati ai muri sui due marciapiedi si era potuto sentire palazzo vecchio battere le ore suonato il rintocco Aminta gridò vieni fuori bastiano non ti nascondere anche te come i padroni era un uomo preso dalla disperazione se avesse avuto un fucile avrebbe sparato allo stesso modo sarebbe potuto cadere in ginocchio e chiedere perdono nessuno lo contrastò come nessuno nemmeno Aminta ebbe l'animo di salire le due rampe di scale ed entrare nell'ufficio di Del Buono la porta era spalancata e chiunque era in diritto di entrare e di esporre le sue ragioni Del Buono si era affacciato alla finestra e glielo ricordava oh volete richiamare le guardie ai soldati poi era sceso e si era diretto verso i cavalleggeri loro dietro riempivano la piazzetta in maniche di camicia e panciotto coi berretti e i cappelli di paglia buttati sulla nuca le giacche sul braccio appese alle spalle le barbe lunghe e i visi di fame Aminta si trovava in prima fila sicché Bastiano sono arrivati questi quattrini Del Buono mostrò un telegramma di Borghesio dopo le sottoscrizioni della Romagna di Milano e di Torino a loro Fiorentini sarebbero toccate all'incirca duemila lire tra due o tre giorni siamo sicuri di spartirle domani si torna sui cantieri aveva gridato Olindo e Aminda hai ragione Tinai ci rimandate di giorno in giorno e poi sono palliativi bisogna costringerli con la forza Badolati e compagni in quel momento metello era sul greco del terzolle al riparo il riparo al riparo della siepre abbracciata Lidina non di meno dopo il racconto che gliene avevano fatto poteva immaginarsi la scena e le parole bisogna fargli paura a costo di finire in galera almeno ci sarà un perché questo era ancora Aminta che parlava io intendo tornare sui cantieri per riprendere il lavoro replicò Olindo non per fare delle chiassate vi abbiamo dato retta anche troppo e credo di non essere il solo a pensarle in questo modo allora Aminta tentò di aggredirlo gli avevano divisi e malgrado la calma in cui era continuata la discussione Aminta si era seduto su un sasso ai piedi di Delbuono e si teneva la testa tra le mani Olindo aveva trovato non uno ma dieci venti sostenitori anche Buttori il tedesco era venuto a schierarsi dalla parte di Costor toglimi pure la patente di socialista caro Delbuono ma è una corda che non si può più tirare i padroni hanno un coltello dalla parte del manico vogliamo continuare a dare delle estratte perché ci entri tutto in gola Delbuono aveva parlato come gli riusciva li aveva rianimati con le notizie ricevute da Pescetti che si tratteneva a Roma apposta per seguire lo sviluppo della situazione sì lo avevano interrotto contiamo su Giolitti come se Giolitti l'avessero letto i lavoratori te le dobbiamo insegnare noi queste cose per conto mio deciso disse il tedesco si era tolto di bocca il fuscello d'erba d'avena e si dondolava alto e smagrito sui calcagni la sua voce d'orco profonda naturalmente maliziosa e il suo tono tranquillo persuaso smussavano quanto poteva esserci di odioso nelle sue parole a monte rivecchi dissi finché si può ora a vinta stai buono non ti arrabbiare io personalmente chiedo spiega e non soltanto perché ho la moglie lì per partorire ma perché in coscienza mi sembra che si sia andati al di là del sopportabile del consentito bravo tedesco gli gridarono ma anche questo vuol dire arrendersi dopo tutto qualche si è sopportato è un fare i crumiri e cosa vi pare rispose il tedesco non chiedo a nessuno di venirmi dietro e poi un momento stanotte ci potrei anche ripensare ma dovrebbe calarmi in casa la befana e accendere il vle il fuoco e apparecchiare la tavola per farmi cambiare idea e si tirò indietro parve malgrado la sua mole come scomparire in mezzo al gruppo non voglio fare del male nessuno aveva detto ma nemmeno a me stesso e a che mi vuol bene si erano levati da più parte dei gridi del buono aveva fatto calma con la mano e si era e si era dato di nuovo la parola d'accordo la fame è fame ma vi lascio considerare se non sia il caso di sottoporsi a un ultimo sacrificio dico in particolare a te buttori aggiunse rivolgendosi al tedesco che sei vecchio del mestiere e sei un galantuomo riflettici davvero stanotte siamo più di prima nella misura del consentito questi soldi pochi che siano stanno per arrivare e al punto in cui ci troviamo a rendersi significherebbe un disastro specie riguarda l'avvenire d'ora in avanti gli imprenditori si sentirebbero in diritto di dettare loro le condizioni sempre e a loro piacimento poi si rivolse a Olindo vieni qua Tinai tu sei entrato da poco nell'arte non devi credere di avere nemici nessuno nemico avevano gridato e il decano a meno che non lo diventi lui con una brutta azione Olindo era avanzato di qualche passo verso del buono stava fra mezzo un gruppo da cui doveva sentirsi spalleggiato lo si capiva dal suo atteggiamento e dall'atteggiamento di coloro che gli stavano accanto tutti i padri di famiglia in definitiva dalle facce dure e oneste che la disperazione aveva reso torve provocatrici e che ora spontaneamente si erano portati vicino al tedesco scoprendo in lui un alleato di prestigio Olindo per primo se ne fece scudo mi richiamo alle parole del tedesco non ci date di crumiri se domani si torna al lavoro e come vi si dovrebbe chiamare buone lane gli chiese il decano gente che ha la responsabilità di una famiglia e non va dietro agli spiriti io ho cinque bocche da sfamare sei con la mia non so più dove trovare due soldi per una fetta di pane Olindo disse etereo in viso al solito tutto ansia ora e tutto bile gridò io non ho né la ganza che mi mantiene né la moglie bella o che mi vada a lei a lavorare soltanto allora mentre si scagliava nuovamente su Olindo ci si accorse di Aminta e non si fece in tempo a trattenerlo Olindo tentò di fuggire ma Aminta gli fu addosso con impeto prima ancora di colpirlo lo rovesciò dopodiché si ebbe la mischia tra i sostenitori di Olindo da una parte che arrestato Aminta sullo slancio lo stava massacrando e coloro che erano accorsi in suo aiuto inutilmente Giannotto Tedesco Eduili Leopoldo il Santino dall'una parte dall'altra si erano buttati in mezzo per dividerli gli animi erano talmente stravolti che anche loro per difendersi non avevano potuto fare a meno di colpire presto il tumulto aveva richiamato gente erano intervenuti dei soldati che sortivano di caserma per la libera uscita con l'intenzione generosa di far da pacieri e lo stesso erano stati trascinati nella rissa un meridionale aveva sguainato la baionetta per fortuna ancora padrone di sé se ne serviva di piatto e gridava fedenti che state facendo vi abbiamo sfamato e sì non c'era esortazione che bastasse affermarli era la propria bile la propria miseria la propria fame che ciascuno abbatteva pugni chiusi sulla faccia del compagno e tutti sia quelli che avevano spalleggiato l'indo sia quelli che erano insorti in difesa di aminta senza più ricordarsi del pretesto che li aveva scatenati tutti intorno quei conciatori e quei marmisti richiamati dalla buriana la più parte a braccia concerte stavano a guardare bello spettacolo che date commentavano le baglie e le madri sorprese nella loro passeggiata sul lungarno scappavano strillando e trascinandosi i ragazzini l'omnibus aveva appoggiato sulla sinistra e i passeggeri atterriti o allegri secondo i casi sembravano godersi lo spettacolo dall'alto di un bel vedere intanto il maître dell'hotel Balestri aveva fatto chiudere il portone e spedito di carriera il suo secondo a chiamare il delegato la scazzottata si era protratta a dieci minuti un quarto d'ora e soltanto del buono fattosi nel centro della mischia era riuscita a sedarla ci dobbiamo vergognare urlava disperatamente aggiustandosi le lenti in cima al naso e voi gli altri gli avere i caldi alle mani sciagurati l'autorità e il rispetto di cui godeva finirono nonostante tutto per richiamarli alla ragione si vide allora che Olindo era scomparso e che Aminta era rimasto per terra col viso rigato di sangue in preda alle convulsioni ma prima che gli animi si fossero calmati e che la staffetta dell'albergo arrivasse a destinazione della vicina caserma era accorso il picchetto di guardia al comando di un ufficiale con la sua sola presenza aveva fatto il vuoto nella piazza tuttavia non si era curato dei militari né aveva fermato un paio e insieme ad essi aveva acchiappato del buono e una decina di altri muratori che non avevano creduto o non avevano fatto in tempo a scappare il delegato giunto di lì a poco gli aveva poi ammanettati dei compagni di Metello al cantiere di via 20 Settembre c'è rimasto Leopoldo nella rete cotè stasera messi a letto i ragazzi la sua giovane cognata non l'avrebbe visto rientrare di via